Non si può, a poche ore della convocazione del Consiglio dei Ministri, convocare le parti sociali e il sindacato per una informativa sui contenuti della legge delega fiscale in modo parziale, sommario, general generico. Poche sono state le argomentazioni che il Governo ha presentato al tavolo. Si parla genericamente di una riduzione delle aliquote, ma non sappiamo se si taglia in alto o in basso. Si parla di una revisione degli scaglioni, anche qui nulla c'è stato detto. Abbiamo posto i contenuti della nostra piattaforma Unitaria. Intanto vogliamo una riforma fiscale che risponda a criteri che assicurino il principio della progressività del prelievo. Che rimane un grande principio costituzionale. Se il Governo risponde a queste nostre rivendicazioni e a queste nostre priorità, nei prossimi giorni bene, diversamente siamo pronti a valutare insieme a CGL e GUIL le iniziative di mobilitazione da mettere in campo a sostegno delle nostre ragioni.